È trovandoci di fronte ogni giorno la sofferenza di altri esseri umani che abbiamo iniziato a maturare l'idea di una comunità in cui i rapporti siano fondati sulla solidarietà e il rispetto. Una società che faccia a meno della guerra. Per sempre. Essere contro la guerra, perché la guerra non si può umanizzare. Si può solo abolire. Dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che abolire la guerra è una necessità urgente. È un obiettivo realizzabile. E non mi piace la parola utopia. Preferisco parlare di progetto non ancora realizzato. La non-violenza è la sola speranza di difendere e promuovere i diritti di tutti. Il mondo dovrebbe essere così. Chi ha bisogno va aiutato.